Inflazione 2023, secondo alcuni esperti di macroeconomia il peggio deve ancora arrivare, ma non a livello della recessione, quella sappiamo che arriverà fra un po', ma a livello proprio dell'inflazione, secondo molti non è stata ancora toccata il picco, quindi questo potrebbe significare delle spinte dalla parte della banca centrale molto molto forti e quindi aumentare i tassi di interesse secondo alcuni anche per arrivare intorno al 7% o 10%. Beh, a me questo sembra un po' esagerato, naturalmente loro sono degli economisti, io sono un pirla che fa video su YouTube e investe, quindi magari avranno ragione loro, magari no. Ciò che è importante è capire come muoverci sul mercato per andare appunto a guadagnarci. Mostrerò tutto questo in investitori in 100 giorni, quindi se non sei iscritto al gruppo Facebook mi raccomando fallo perché è gratuito.